Credo che questa sia la più grande soddisfazione in un gruppo del quale sono orgoglioso per tante cose. Cioè la capacità di capire che il calcio in generale, ma la B è questa, magari non vince con l'Eco ma poi vince la Palermo. L'importante è sempre cercare di fare le cose giuste e quando si può muovere la classifica. E quel punto di l'Eco diventa importante per questo. Però a di là di questo c'è stata una grandissima prestazione di intensità, di personalità, di intensità fisica e mentale. Perché fino alla fine abbiamo provato a continuare a far gol, a giocare la palla, a attaccare la profondità. Bene, è una grande partita e ce la godiamo tutta quanta. Da dimenticare però velocemente perché il prossimo avversario sarà il fatto. Sì, oggi e stasera ce la godiamo. Da domani dobbiamo preparare una grande partita con la squadra più forte del campionato. con l'idea però ugualmente, che non sia semplice anzi, però di provare a far punti con tutti e in tutti i modi.